Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 52enne, noto alle forze dell'Ordine per diversi precedenti, ritenuto responsabile del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo, dopo una perquisizione personale domiciliare eseguita nel centro cittadino di Battipaglia, è stato trovato in possesso di tre confezioni di eroina per un totale di 1,5 grammi e di due bilancini digitali perfettamente funzionanti, utilizzati per la preparazione delle singole dosi da mettere in vendita. Il Pubblico Ministero ha disposto che l'indagato venisse collocato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa della convalida d'arresto che si terrà dinnanzi al GIP del Tribunale di Salerno.